Dal 7 al 9 dicembre in via Isonzo a Ponte Cagnano-Faiano l'evento Le Notti dei Rasunie, gusti e tradizioni picentine lungo le vie della città. Il titolo dell'iniziativa è l'evocazione dei Rasunie, antica famiglia etrusca realmente vissuta a Ponte Cagnano nel VII secolo a.C. e istituisce un legame tra il ricco passato della città etrusca e il patrimonio di tradizioni enogastronomiche, artigianali e culturali. Il percorso, organizzato in collaborazione con Mestieri e Sapori, si snoda nel centro della città. L'evento rientra nel più vasto progetto Museo Senza Limiti. Il sindaco Giuseppe Lanzare, l'assessore alla cultura e i beni culturali Adele Trigiano mettono in evidenza. È solo il primo evento, vogliamo scrivere una nuova pagina della storia di questo comune, in cui convergano le tradizioni del passato con i gusti e le prospettive del presente e del futuro. La storia della nostra città è un progetto ambizioso quanto straordinario in termini di aggregazione, coinvolgimento e trasmissione di messaggi positivi, quali la conoscenza delle tradizioni e la valorizzazione della storia del territorio.